Ancoratti vandalici presso il parco del fiume Testene sembra proprio che quel luogo che sta man mano rifiorendo dia fastidio a qualcuno. I gnoti questa notte hanno lanciato la panchina in legno facendola finire nel corso d'acqua. La panchina era stata realizzata e portata su una delle sponde del fiume dai volontari che si occupano della cura del parco del fiume Testene per dare ai visitatori la possibilità di ammirare il fiume e le sue creature, ascoltare il rumore dell'acqua e rigenerare la mente. Un gesto che lascia ancora tanta tristezza nei cuori di chi ogni giorno cerca di portare avanti un progetto per il bene comune. Appare chiaro che questi ragazzi nella testa hanno il vuoto, dichiara Gerardo Scotti, presidente dell'associazione Genesi dell'Ambiente e cittadino volontario che si occupa della riqualificazione del parco del fiume Testene. Il loro fine ultimo, continua Gerardo, è solo quello di deturpare, distruggere, eliminare. Il loro diniego per quello che è bello, per quello che è degli altri, per quello che è di tutti, è assoluto. Questi sono ragazzi che nella loro vita non hanno ricevuto nessuna educazione. Sono dure le parole di Gerardo Scotti che ormai da due anni porta avanti questa missione con un poche difficoltà. La soluzione migliore sarebbe quella di installare una videocamera di videosorveglianza per monitorare quello che accade durante la notte, ma ad oggi il parco ne è sprovvisto.